Il regno del kebab, piazzetta Perna 7-8, via Carducci, angolo via Piave, chiuso il martedì. Si addensano i nuvoloni neri sulla città di Avellino, l'unico raggio di sole è il nostro caro, insostituibile, inossidabile Meteopep, che tra l'altro questa mattina è attrezzato anche con la cartina, quindi possiamo tracciare le previsioni. Possiamo fare le previsioni e tracciare come il tempo. Quindi un buongiorno ai miei fanci, un buongiorno a tutti, e siete collegati da Piazza Libertà con Meteopep, da chiacchiere il caffè. Quindi oggi il tempo sarà nuvoloso, anche domani, però senza pioce. Poi dopo di che c'è una perturbazione nella regola, non interessa a noi, si sposta verso nord, porterà pioce a nord, però qua il tempo sarà la temperatura primaverile, si tratti di tempo buono per questi giorni. E poi durante la giornata uterna le temperature sovriranno un po' la media di 15-17 gradi. Intanto ha mobilitato questa mattina la task force, vediamo i caschi rossi in inazione, come mai? E come mai? È una manifestazione perché oggi è l'occasione della Befana, festa dell'Epifania. Ah, io pensavo che fossero intervenuti per una sua dritta. No, 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 quella è una manifestazione che fa. Ah, a parte. Sì, sì, sì. Vabbè, e allora adesso per la gioia del nostro Bidui, che tra l'altro non va a dormire, se non ascolta... Sì, Bidui prenderà molto vento, perché soffreranno in tanti venti di scirocco. Eh, però dia a Bidui, che fa attenzione, insomma. Sì, che fa attenzione di non tirare il pallone quando tira vento, se no non fa il gulle. E poi come fa? E poi la canzone fa l'inno, fa Bidui, 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 Bidui. Sì, ovviamente rinviamo la nostra rubrica, il Meteodog, perché non c'è Charlie, quindi... Non c'è Charlie, non abbiamo potuto fare. Se vuoi fare un appello a Charlie, di poter venire la prossima volta, insomma. Dico a Charlie, di venire la prossima volta e facciamo le proiezioni con Charlie, con il capotino. Ciao, linea lo studio.